E' un mercato in piena evoluzione nel girone C di Lega Pro. La Turris piazza un doppio colpo per il neotecnico Gaetano Fontana. Tutto fatto per l'arrivo al titolo definitivo del difensore ex Avelino Mirko Miceli. E non solo, perfezionato lo scambio con Luis Maldonado dall'Ecco. Il club Coralino ha girato in presso a Francesco Ardizione e ai Lombardi. Inoltre la Turris ha risolto il presso del difensore Luigi Aquino. Il classe 2002 torna alla Sampdoria. Il giuliano, in attesa di Gennaro Scogna-Miglio dell'Avelino, ha ufficializzato l'arrivo di Steven, Michè e Yango. Il centrocampista classe 2001, cresciuto calcisticamente nel Bordeaux e nel Genoa, ex Cosenza e Siena, è riduce dalla prima parte di stagione vissuta con la maglia dei Rimini nel generale B di Serie C. Acquisto a titolo definitivo da parte del club Giallo Book, che è ben affatto nel giugno d'andate, che vuole confermarsi ad alti livelli anche nella seconda parte della Regular Season. Accordo fino al 30 giugno con opzioni di rinnovo tra i Anusso Francavilla ha annunciato l'arrivo di Sergio Jakubiv, proveniente dall'FC Crotone. Il giovane, difensore Italo-Ucraino, classe 2-1-2, è cresciuto nel giovanile del club calabrese. Nella scorsa stagione ha militato tra le file del Fugio in Serie D, collezionando 16 presenze, 2 gol e un assist, mentre in questa stagione tra le file dei pedagogici 10 partite nel campionato Primavera 3 e una presenza in Coppa Italia di Serie C. Uscita dalla regina, dove non è riuscito a trovare spazio in campionato né in Coppa Italia, Vittorio Agostinelli è destinato ad un nuovo preso, stavolta in C. Il trequartista di proprietà della Fiorentina, Piacer Pescara. La trattativa nelle prossime ore si chiuderà con l'arrivo del calciatore alla corte del tecnico Alberto Colombo. Il trequartista di proprietà della Fiorentina, Piacer Pescara.